Grazie per il cartellone di domenio di Galileo, però lo potevate finire di coronare ragazzi Che bella serata sarà questa ragazzi Abbiamo un sacco di cose da dirvi Benvenuti in questa corruzione d'Italia che vi racconterò Un'Italia che insomma quest'anno festeggia i 150 anni di unità d'Italia Quindi è la migliore dell'Italia possibile 150 anni, ti rendi conto che ai 150 anni uno dovrebbe essere un vecchietto E invece questo Stato cosa fa a 150 anni e dà un vincere zillo che ancora va a buttare E nessuno chiamerà per rilasciare me in carcere Dunque stasera voglio raccontarvi, per raccontarvi questa cosa io ho bisogno fondamentalmente Di un oggetto lungo, lungo, duro e accuminato Un bascane Grazie missene Cantami ricchi e poveri Oh cazzo Grazie anche per quel cartello Grazie mille Su un ponte attaccato ad un masso ci sta un disco grafino che E' stato portato a collasso per colpa di un cazzo di MP3 Gli artisti, anche i più alternativi, gli gridano E' stato così Gli artisti, anche i più alternativi, gli gridano